Benvenuti da Yelmini, uno spazio immenso dedicato a tutti i migliori brand del made in Italy in cui sentirvi a casa coccolate ed abbracciate dal calore del nostro grande cammino. Potrete scegliere in tutta serenità insieme a noi tutto ciò che potrà farvi risplendere di più e lo riceverete direttamente a casa se ne avete piacere oppure venendoci a trovare direttamente in negozio e prenotando la vostra shopping experience insieme a noi. Tutto questo è Yelmini, un grande spazio in stile new yorkese sempre accolte con ottima musica e un buon caffè.